Grazie, buonasera a tutti. Io sono qui in rappresentanza del gruppo degli attivisti dell'undicesimo municipio che sta a significare in sostanza ai vostri vicini di casa, per chi è di questo quartiere. L'undicesimo municipio comprende il territorio fra la via Portuense e la via della Magliana fino ad arrivare a Fiumicino, quindi un territorio molto vasto che conta oltre 150.000 abitanti. È un territorio del quale in passato è stata fatta carne di porco dalle amministrazioni. Il nostro è un municipio prevalentemente composto da periferie, è un municipio dove pertanto abbiamo tutti i problemi connessi a quel tipo di situazioni e pertanto è un quartiere dove non sempre la qualità della vita è quella che uno si aspetterebbe in una capitale europea. Io personalmente sono infatti nato in una borgata che è la borgata del Trullo, non propriamente magari quella però in un quartierino che era un po' come un piccolo paese e che è adiacente alla borgata del Trullo, ci sono delle persone del mio quartiere infatti che mi fanno dei sorrisi perché effettivamente nascere in una borgata è una cosa bella per molti versi. Noi abbiamo avuto una bellissima infanzia anche se siamo nati fra i cantieri, fra le discariche di calcinacci eccetera, però cosa è successo? Nel frattempo sono passati più di 30 anni perché siamo tutti ultra quarantenni oggi e le cose che accettavamo 30-40 anni fa, come avere delle discariche ci sembrava normale a noi bambini, come avere delle speculazioni di lizie sotto casa, tutto questo all'epoca era la normalità. Oggi come oggi è il momento di dire basta a questa gestione del territorio che ci ha portato ad avere delle situazioni critiche un po' ovunque e non solo in periferia, anzi, ultimamente abbiamo constatato che l'aggressione di chi vuole fare speculazioni sul nostro territorio si è spostata da dove si era collocata negli ultimi anni, ovvero sia a ridosso del raccordo anulare. Questo perché? Perché la crisi ha portato con sé anche una ferma del mercato immobiliare e pertanto il business che prima si poteva fare anche nei pressi, nella periferia più estrema, nell'agro romano possiamo dire, oggi come oggi non è più realizzabile perché non si vende lì o comunque si vende a prezzi che sono addirittura inferiori a quelli di realizzazione delle opere. E allora da questa cosa è derivata una conseguenza abbastanza ovvia che chi vuole costruire, pertanto fare business sul territorio, spesso a discapito degli interessi della collettività, si è spostato più verso il centro, sta cercando di aggredire i territori, il suolo dove è più pregiato. E infatti ultimamente ci siamo trovati a fronteggiare diverse situazioni in cui si andavano profilando delle speculazioni molto gravi. Ovviamente parlo innanzitutto del quartiere Marconi, il quartiere Marconi che già di suo è complicato perché è un magma cementizio stato definito, è senz'altro uno dei quadranti più inquinati di Roma purtroppo ed è uno di quelli più densamente popolati. Ora in questo quadro le amministrazioni sia di destra che di sinistra, lo sappiamo, hanno deciso di edificare ancora, di creare altre abitazioni senza minimamente curarsi del fatto che la nostra città non è in grado di sostenere uno sviluppo del territorio di questo tipo, ma anzi va ridimensionato, la densità abitativa, la produzione di smog, di agenti inquinanti, perché bisogna puntare di più alla qualità della vita dei cittadini, per cui non ci può essere una buona qualità della vita se i nostri quartieri, le infrastrutture che lo compongono, e parlo delle scuole, parlo delle strade, parlo dei marciapiedi, non sono all'altezza di standard europei, visto che oggi siamo qui tra l'altro per parlare di Europa, diciamolo allora, l'Europa per certi versi è stata un po' una fregatura per noi, per colpa nostra, perché non siamo stati bravi a negoziare i nostri diritti, però dovremmo anche prendere esempio da tante realtà europee che invece si sono sviluppate in maniera, parlo ovviamente più che altro del nord Europa, non farei riferimento alla Grecia magari su questo, per quanto poi sulla Grecia bisognerebbe fare un lungo discorso, non è tutta colpa loro quello che sta succedendo, però voglio dire, noi per quanto riguarda gli standard delle nostre città e la conseguente qualità della vita ovviamente dovremmo cercare di fare riferimento a quelli che sono stati fino ad oggi più bravi di noi, naturalmente noi stiamo cercando di opporre una strana resistenza a questa recrudescenza del cemento che si sta per manifestare sul nostro territorio, non sempre è facile perché ovviamente non siamo noi quelli che hanno le leve del potere in mano adesso, cercheremo ovviamente di acquisirle insieme ai cittadini con un progetto partecipato e non da soli. E a proposito di progetto partecipato, adesso ce n'è uno in corso proprio a Viale Marconi che riguarda il parco Papareschi e riguarda appunto questo fazzoletto di terra, ho usato il termine parco Papareschi, in realtà è abbastanza improprio, si tratta di un percorso pedonale, non so se mi spiego, insomma si tratta di un fazzoletto di terra di meno di un ettaro ma tenete presente che un ettaro di verde a Viale Marconi è veramente tanto, perché lì non c'è nulla. Ora noi stiamo cercando di partecipare alla progettazione di questo parco e vi devo dire al di là di come andrà, perché non sappiamo se poi questa progettazione, sapete, la progettazione partecipata è ancora una cosa in via sperimentale, diciamo così, e rientra anche quella in una normativa europea in termini di proposte che fa parte delle linee che ti dà l'Europa per come devi gestire le progettazioni di qualsiasi cosa. È ancora in via sperimentale, per cui non sappiamo nemmeno bene noi quelli che saranno i risultati, però vi posso dire una cosa, a questa progettazione partecipata stiamo partecipando soprattutto noi, noi del Movimento 5 Stelle e gli attivisti del gruppo dell'undicesimo municipio che stanno dando un contributo preziosissimo, mentre al contrario purtroppo gli altri cittadini spesso si disinteressano, ma non voglio però dare la colpa a loro, dico soltanto che probabilmente non credono più in quello che le istituzioni potrebbero loro dare perché si sono disamorati, perché si sono rassegnati e questo è il sentimento che noi dobbiamo combattere prevalentemente, quello della rassegnazione, non ci dobbiamo rassegnare ad avere sempre quello che fino a oggi ci hanno dato, perché noi possiamo e dobbiamo ottenere di più, però ci vuole anche un po' di coraggio, bisogna anche saper lottare. Ora lo stiamo facendo effettivamente, lo stiamo facendo in maniera pacifica, lo stiamo facendo in maniera civile, lo stiamo facendo con delle idee, stiamo portando avanti delle idee e non soltanto delle critiche, che pure le critiche ci vogliono, perché ovviamente come puoi oggi come oggi non criticare quello che avviene sul nostro territorio, la maniera in cui si spartisce la cosa pubblica fra persone che si dichiarano parte delle istituzioni ma invece si comportano in realtà da parassiti e se si sentono parte delle istituzioni non è perché si mettono al servizio di queste, ma perché le vedono come una cosa che gli appartiene, questo ovviamente è sbagliatissimo. A questo proposito vorrei fare riferimento a una situazione che in questo momento è diventata estremamente critica, io credo in tutta Roma, faccio riferimento al mio municipio perché io raccolgo le lamentele, il grido di dolore del mio territorio dell'undicesimo, ma quello che sta succedendo adesso a livello di scuola nel nostro municipio è qualcosa che un anno fa non mi sarei aspettato, adesso è passato un anno dall'inizio di questa consigliatura e se ci mettiamo anche la campagna elettorale a partire dal febbraio dell'anno scorso siamo a un anno e mezzo di impegno proprio sul territorio a tambur battente e devo dire ho riscontrato che anche quella categoria degli insegnanti che una volta ci vedeva come qualcosa di sospetto adesso si sta avvicinando a noi perché anche lì vediamo che la situazione è arrivata a un punto in cui la supportazione non è più possibile e ci stanno contattando tante persone che fanno parte del corpo dei docenti, educatori, insegnanti, ci hanno contattato tantissimi genitori e ci hanno contattato persino i dietisti e credo che ce ne sia qualcuno anche oggi qui perché nella scuola nostra sta spaventosamente abbassando gli standard qualitativi, questo non lo dobbiamo permettere, non lo dobbiamo permettere perché si può risparmiare su tutto ma non sulla salute e sul futuro dei nostri bambini, dare una scuola cattiva ai nostri figli, io non ho figli però credo di essere in grado lo stesso di capire il problema, togliere il futuro a loro, metterli al mondo e poi lasciarli come delle persone senza un senso critico perché questo è quello che succede quando la scuola non funziona, significa consegnarci ad un futuro incerto e triste da paese del terzo mondo, questo assolutamente non lo dobbiamo permettere, ora purtroppo la scuola è, lo è sempre stata, ma in questo momento di crisi, in questo momento in cui i soldi sono finiti, perché è quando finiscono i soldi che i noti vengono arpettine e perché quando si parla di politica sembra di parlare di ideali, in realtà si parla sempre di soldi, questo è il punto, purtroppo la scuola come dicevo è sempre stata, ma lo è oggi ancora di più per questa situazione contingente, diventata il terreno di scontro interno alla maggioranza, la maggioranza ovviamente intendiamo la sinistra, adesso ci sono una serie di faide in corso, una serie di regolamenti di conti, una serie di spartizioni che sono rimaste in ballo, che non sono chiare, che stanno occupando l'agenda politica, io credo in tutti i municipi, ma nel mio sicuramente, e allora vediamo situazioni critiche in cui delle scuole vengono chiuse, altre vengono aperte, senza una reale spiegazione, faccio l'esempio della Quarta Raro, la Quarta Raro è una scuola che sta alla Magliana, è una scuola che è stata incendiata sei volte, è stata incendiata sei volte nell'ultimo mese e mezzo, quando non era mai stata incendiata prima, ora, fermo restando che appare sempre strano che venga incendiata una scuola, al di là del vandalismo, pure semplice, è veramente singolare che un edificio pubblico che è sito in un punto visibile del quartiere Magliana perché non sta in mezzo a un bosco, non sta nascosta da chissà cosa, la Quarta Raro è proprio all'incrocio tra via della Magliana Nuova e via della Magliana Vecchia, in un punto dove c'è solo lei, quindi sta praticamente davanti alla caserma dei Carabinieri, per cui voglio dire, è un posto che si può presidiare, eppure è stato consentito a questi vandali, se sono vandali, perché io mi auguro che non ci sia una regia dietro, che l'hanno potuta incendiare sei volte di seguito, quello che è successo alla scuola Vincenzo Cuoco, che sta a Via Le Marconi, a una traversa, a Via Blaserna, ci sono stati ripetuti atti di vandalismo e furti anche lì dentro, senza che nessuno muovesse un dito, e ci hanno contattati i genitori che non ne possono più perché dicono una situazione del genere non è accettabile e non è possibile che si verifichi nell'indifferenza delle istituzioni, non solo, riguardo sempre alla scuola e grazie a dei ragazzi che farebbero veramente, i dietisti, che hanno anche vinto il concorso al comune, ma non sono stati assunti, e questo purtroppo è un punto critico perché questa è una cosa strana, è così, aver vinto un concorso non ti dà diritto al posto di lavoro, cioè tu sei titolare, sei vincitore di concorso, però questo non comporta che tu debba lavorare e allora ci si domanda al concorso che l'avete fatto a fare, tra l'altro voglio dire siamo di nuovo di fronte all'errore di prima, noi andiamo a risparmiare dove? Sul nostro futuro, questo è pazzesco, è pazzesco soprattutto se consideriamo quanti sprechi ci sono, io in questo anno che sono stato lì ho visto buttare via una montagna di soldi, a parte quelli stessi che si spregano proprio per l'amministrazione della struttura in sé, cioè del consiglio municipale che costa l'ira di Dio, costa l'ira di Dio perché ogni seduta costa migliaia di euro e quello si riunisce 40 volte l'anno, quindi voglio dire e nessuno li vuole però rinunciare alle sue prerogative, per cui vogliono che c'è il vigile, per cui pretendono che ci siano tutta una serie di comfort, li potremmo definire comfort per i consiglieri che lavorano là dentro, tempo fa qualcuno l'avrà seguito perché l'abbiamo anche pubblicato sul nostro sito nazionale, quello di Beppe Grillo, quando è venuto il Papa Francesco in visita alla Magliana, un consigliere del PD l'unica cosa che si è preoccupato di dire è stata ma c'è un posto riservato per noi consiglieri? Cioè io voglio dire ma sono questi i vostri problemi? Cioè voi state lì a difendere le vostre prerogative che sono prerogative anacronistiche, assolutamente superate dai tempi e voi ancora siete proprio dei dinosauri ma proprio non volete guardare avanti, non mi stupisce comunque perché queste persone che si sono formate all'interno delle segreterie dei partiti e delle scuole di partito, tu dimmi tu come possono pensare in maniera diversa rispetto lì se non ti lasci plasmare, non avrai mai un incarico per conto del partito, per cui tornando alle scuole, noi questo lo rivediamo anche nella scuola perché per loro la precedenza è affermare quel senso di proprietà del partito rispetto a quella scuola, a quell'altra, a quella zona, a quell'altra o a quel tipo di gestione della scuola perché poi non entrano mai nel merito della didattica, almeno facessero questo, almeno si preoccupassero dei programmi ma figuriamoci, gli interessa solo il presso scolastico perché è lì che vanno i soldi e allora questa scuola la devo liberare perché poi la faccio occupare dai miei amici, oppure lì c'è un'associazione mia amica che mi paga l'affitto e io gli trovo un altro legale in un'altra scuola con la scusa magari che non è ristrutturato, gli faccio fare due lavoretti e quelli se la prendono, questa è una sperequazione, è una sperequazione mentre invece non ci si preoccupa della scuola pensando alla collettività, noi abbiamo a Ponte Galeria una scuola in via Lievi, Ponte Galeria è un posto veramente abbandonato da Dio, non so se qualcuno qui ci vive, non è che sia brutto come posto, a Ponte Galeria si potrebbe vivere benissimo se fosse gestito bene il territorio, c'è questa scuola via Lievi che un costruttore che ha realizzato lì il piano di zona, poi entriamo pure nel merito dei piani di zona, però questo costruttore, uno dei pochi forse, il nido che era previsto come opera scomputo, l'ha fatto e l'ha completato e l'ha messa a disposizione del comune, il comune non lo vuole perché dice che non c'è i soldi per mettere gli arredi e lì c'è gente che è costretta a portare il figlio a scuola nel municipio adiacente nel dodicesimo oppure arrivare sulla portuenza, infognarsi nel traffico ogni mattina e c'è questa scuola lì bella e pronta, noi abbiamo fatto un'interrogazione sempre su segnalazione dei cittadini, non ci vogliamo prendere chissà quale merito, i cittadini ci contattano, noi andiamo là, loro ci spiegano le cose, noi raccogliamo le altre informazioni che possiamo raccogliere noi e poi procediamo, questa è la nostra rete, questa è la nostra forza, c'è questa scuola lì che è chiusa e è pronta, ce n'è un'altra che sta via Pensuti alla Muratella, un altro piano di zona, questa doveva essere la scuola più bella del mondo, è stato fatto un concorso internazionale per costruire tre nidi a Roma, una alla Muratella e una alla Romanina, l'altro non mi ricordo dove ma ha poca importanza, un posto vale l'altro, a Montesagro, benissimo, abitante della Muratella lo sa, con un bambino piccolo, praticamente questa scuola è stata fatta una gara, una gara internazionale, cosa rara in Italia, cosa rara in Italia, una gara internazionale, quindi era stata fatta la cosa giusta, questi tre nidi saranno costruiti da due architetti straniari e uno italiano milanese, il nido della Muratella appunto era questo italiano milanese, cosa succede? Iniziano i lavori, viene fatto il cemento, viene fatta la struttura, fallisce la ditta che stava realizzando il nido, praticamente da questa situazione per sette anni, otto anni nessuno è riuscito a ridare slancio, a ridare impulso a quei lavori, cioè questa è incapacità manageriale, perché non esiste che un'azienda fallisce, ti lascia il lavoro a metà ma tu aspetti sette anni, nel frattempo è andata in malora anche la struttura che era stata costruita, quindi ulteriore sborso di denaro, ricominciamo da capo a dodici, adesso dovevano cominciare i lavori, pareva che fossero stati trovati i fondi, che poi erano stati bloccati dal decreto del fare, per cui vediamo anche sovrapposizioni di poteri fra diverse parti dello Stato che si contrastano a vicenda, dovevano ricominciare i lavori, i lavori stimati in 540 giorni lavorativi, sono di nuovo fermi, sono di nuovo fermi e la gente di Muradella che è un altro piano di zona è ovviamente furibonda e dice ma scusate ma io quando ho comprato casa qua l'ho comprata pure perché mi avete detto che ci sarebbe stato un nido, perché mi avete detto che ci sarebbe stata la succursale dell'università Lewis, che ci sarebbe stata a Fonopoli, per cui io pensavo di andare a vivere in una zona viva e vivace e tante altre cose, a Muradella ci sono centinaia di discariche perché la scusa è che poi queste scuse tautologiche che veramente l'amministrazione pubblica non è in grado di portare a termine un'opera o un quartiere, poi si giustifica per il fatto che non svolge la pulizia, la nettezza delle strade in quel quartiere e come si giustifica? Dicendo è perché il piano di zona non è completato, va bene, ma così non se ne esce più e queste sono le situazioni che troviamo purtroppo nel nostro quartiere. Ora noi stiamo cercando di dare una spinta a tutti ma c'è bisogno, come dicevo, dell'aiuto dei cittadini. Per tornare prima alla questione delle menze, noi siamo stati contattati da questi dietisti che ci hanno dato tanti elementi per lavorare e noi abbiamo preso, a parte abbiamo scoperto un mondo, per chi come me non è genitore ovviamente nella menza scolastica era rimasto ai tempi suoi, quando si andava al refettorio e ti mangiavi quello che c'era, che però era un posto molto umano, le signore che ci lavoravano ci conoscevano per nome eccetera eccetera, era un altro mondo. Oggi come oggi una menza scolastica è veramente un posto dove si lavora male, dove secondo me i bambini non hanno il giusto rapporto col cibo che deve essere un rapporto anche educativo e non soltanto, non deve andare lì solo per nutrirsi, dove il punto centrale è l'appetibilità perché delle vivande e non la qualità, e questo è un grave sbaglio, dove si mangia a ritmi da catena di montaggi, i bambini mangiano un quarto d'ora di pausa, mangiano un altro turno, non è questa secondo me la maniera anche e poi senza considerare quanti sprechi e quant'altro. Ora noi stiamo cercando di lavorare su tutti questi fronti, non è facile, abbiamo bisogno dell'appoggio di tutti i cittadini, se arriverà sicuramente noi potremmo spostare le cose, cambiarle e trovare delle soluzioni concertate con tutti quanti che siano veramente a favore della collettività. Lasciare questo status quo significa sostanzialmente rinunciare, perdere, rassegnarsi e accettare un domani, un futuro in cui il cittadino sarà praticamente zero, varrà veramente poco e sarà utilizzato solo come truppa cammellata quando fa comodo e per fini che certamente non coincidono con gli interessi della collettività e delle famiglie. Con questo penso di poter concludere il mio intervento, mi auguro di vedervi sempre più numerosi sia nel nostro territorio che in quelli adiacenti, ci sono tantissime cose da fare e gli eletti da soli non ce la possono fare, non ce la possono fare anche perché ostacolati da un sistema che tende e vuole autoperpetuarsi. Dobbiamo impedirglielo, ci vuole un rinnovamento, ci vuole un reset di questa Italia affinché si riparta col piede giusto e con delle prospettive, perché adesso siamo senza prospettive. Grazie, buonasera da tutti.